E' stata la gara dei portieri Martino e Stilitano, della ricerca continua di gioco, riuscito ed apprezzato, ma di un solo gol, quello di Angotti che doveva farsi perdonare il rigore sbagliato. La Bovelinese sembra decisa, Figliomeni cerca la conclusione dopo la trasformazione del primo calcio d'angolo. Poi al dodicesimo Virgara fa sua una palla filtrata al centro dell'aria, ma Figliomeni la punge da posizione irregolare. Al quindicesimo invece è Pizzoleo per lo scalea imbucato dalla punizione di Curcio a concludere poco sopra la traversa di Stilitano. Al diciassettesimo invece Castellano cerca la distanza e lo scalea si ritrova dalla bandierina a cercare direttamente lo specchio. Due azioni diverse, ma la terza invece è ad appannaggio della Bovelinese e il ventisettesimo la punizione sembra di Libri, ma la trasforma a Maviglia in formula tagliente, blocca Martino. Dopo la mezz'ora Angotti e la vecchia danno uno scussone alla difesa a Maranto. L'attaccante Lametino scambia verticalizzando e si porta in buona posizione. La vecchia continua l'azione, la palla è defilata insieme a lui e la conclusione compie la parabola. Poi una trattenuta evidente in aria e per concludere la frazione è semiperla per Curcio. Conclusa sul palo, la palla inattiva trova Stilitano in tuffo. Siamo alla ripresa e al decimo Clasadonte conclude alto di prima, così come Curcio al tredicesimo, ma conclude quello che di fraseggio è stato gestito con lucidità e brio. Al quindicesimo Martino para ancora Libri su punizione, al venticinquesimo Stilitano esce ancora e ne abbendonde sullo scalea e al trentesimo lo stesso portiere della Bovalinese ferma a Tilio Angotti da massima punizione. L'attaccante dello scalea può solo riscattarsi al quarantacinquesimo scivolando in rete una palla disegnata per il fronte porta da Vincenzo Curcio.